Signor Pietro Bongiovanni, a cui diamo il buongiorno e il bentornato nel nostro studio. Buongiorno. Buongiorno, signor Pietro. Ciao. Prego, prego. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Accomodiamoci. Perché se è vero che ci sono oggetti appartenuti ai nostri cari, che ogni volta che prendiamo in mano, che guardiamo, ci fanno tornare in mente la loro memoria, la loro presenza, questo è ancora più vero per le reliquie, sostanzialmente. Le reliquie ci richiamano alle persone che rappresentano. Abbiamo il guanto qui, per esempio, di Padre Pio, guardandolo immediatamente, il nostro pensiero va al Santo del Gargano. Oppure anche altre reliquie che il popolo cristiano conosce, cerca, venera e riconosce in queste il segno più grande che rappresentano. Abbiamo, per esempio, qui la reliquia della Santa Spina, la quale ci riporta al mistero della passione di Cristo. Altre reliquie ci ricordano i santi che rappresentano. Allora la gente va, le cerca, sa dove andare, sa dove cercarle e lì diventano luoghi di incontro, di culto, di venerazione e anche di festa. Perché poi l'incontro tra tante persone, direi così, suscita anche l'aggregazione, la preghiera, la comunità, la festa. Monsignor Bongiovanni, come nasce proprio il culto delle reliquie? Quando? Quando nasce? Direi che nasce già dall'inizio della vita cristiana, perché ricordiamoci già nel Vangelo abbiamo il racconto di questi apostoli che seguono Gesù e ne raccolgono la memoria, la memoria direi come testimonianza della vita, che poi ritroviamo nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli. sono raccontate, per esempio, il martirio di Stefano, no? E che poi gli apostoli vanno, ne raccolgono il corpo, lo custodiscono. San Giovanni Battista, viene preso il corpo, viene custodito. E quei luoghi diventano punto di riferimento. La comunità cristiana dei primi secoli si ritrova intorno alle memorie dei martiri, nelle catacombe, no? O negli altri luoghi di culto. E piano piano questa realtà va crescendo. Per cui il popolo credente, diciamo, lega la propria vita attuale alla memoria dei santi che li hanno preceduti, perché traggono da questi l'esempio e l'ispirazione e la forza per la testimonianza nella loro vita. E questo continua fino ad oggi. Girando nelle chiese è possibile vederne di diversissimo tipo. Esistono diversi tipi di reliquie, alcune appartenenti, cioè facciano proprio parte del corpo o l'intero corpo del santo o della santa, altre invece magari sono oggetti o altre ancora. Insomma, ci sono diverse tipologie, Monsignor Pietro. Sì, c'è una vastità veramente ampia di questo genere di disegno che si è andato stratificando anche nei tempi e a seconda anche delle epoche. Noi partiamo, dico, da una memoria antica, perché i primi secoli cristiani, le comunità si ritrovavano intorno al sepolcro dei martiri, poi da lì c'è lo sviluppo, si va avanti, nasce l'aspetto taumaturgico, perché non è che c'erano tanti altri rimedi da sottopunti di vista medici, eccetera. Ora la gente aveva affibbiato le reliquie, il potere della guarigione. Allora lì nascono i primi santuari e anche a livello poi mentale e psicologico della gente insomma si è andati verso anche qualche deviazione, dobbiamo pure dirlo. Poi si è purificata la memoria, no? C'è stato tutto un lavoro di rievangelizzazione dei segni fino ad oggi in cui possiamo dire ecco è rimasto ciò che è l'essenziale, cioè il segno ci riporta al santo, ma il santo ci porta immediatamente al datore della santità che è Gesù Cristo e lo Spirito Santo che costituisce la santità nella Chiesa e nella vita cristiana. Monsignor Bongiovanni, lei ci ha portato due reliquie preziosissime e noi la ringraziamo, il guanto di Padre Pio e la reliquia della Sacra Spina. Dopo ne parleremo più in dettaglio. Monsignor Bongiovanni, la Chiesa di San Salvatore di Lauro custodisce tantissime reliquie e lei oggi ce ne ha portate due. Allora vogliamo approfondire e conoscere nel dettaglio la reliquia della Sacra Spina che ha una lunga storia. La reliquia della Sacra Spina rientra in quella serie di reliquie che ci riportano alla passione di Gesù. C'è la scoperta da parte di Sant'Elena della vera croce con i vari frammenti che troviamo nel mondo, poi ci collegheremo, avete detto prima, anche in Spagna dove c'è veramente questa reliquia molto importante e poi ci sono le reliquie inerenti alla corona di spine. La più importante è custodita a Notre-Dame di Parigi, si è salvata dall'incendio grazie al cielo ed ha una storia questa reliquia molto particolare perché fu comprata da San Luigi, re di Francia, dal sultano e poi da lì si è sviluppata tutta una devozione e una sua storia. E poi ci sono in alcune antiche chiese del mondo, specialmente in Europa chiaramente, ecco alcune reliquie della corona di spine di Gesù. Alcune di queste, tipo quella che è custodita in Bergamo, un'altra nelle Puglie, eccetera, hanno una loro peculiarità molto significativa perché, come si dice, ecco fioriscono in determinate date, specialmente quando il venerdì santo cade nel giorno dell'annunciazione e lì c'è questo fenomeno da secoli che si verifica questa fioritura e questo ovviamente crea devozione e c'è tutto un culto molto bello e particolare. Ecco, queste sono un po' le cose. Poi abbiamo per esempio qui a Roma la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, ecco lì si conservano delle reliquie anche della passione molto importanti. Ogni chiesa, direi così, storica, ha qualche cosa da mostrare, da custodire. Hai nominato questo viaggio in Spagna, allora lo facciamo subito perché siamo abituati a vedere Sara Alessandrini, la travel blogger che ormai conosciamo in giro per le chiese di Roma e d'Italia, ma quest'oggi ci colleghiamo con lei dalla Spagna. Buongiorno Sara! Buongiorno a tutti! Allora Sara, dici dove ti trovi esattamente e perché? Allora in questi giorni sono in Spagna nella regione di Murcia e sono qui per visitare alcune località e in particolare Caravaca della Cruz. Venerdì infatti faremo un pellegrinaggio per raggiungere Caravaca dove sono custodite due reliquie della croce. Queste reliquie sono molto molto particolari perché hanno una storia importante. Innanzitutto vorrei dire che sono qui perché in questo anno 2024 a Caravaca è l'anno giubilare che è stato istituito da Giovanni Paolo II nel 1998 in perpetuum per sette anni dal 2003 si celebra appunto questo anno giubilare. Queste reliquie, dicevo, sono importanti perché sono arrivate a Caravaca in maniera molto particolare. Secondo la tradizione infatti sono state portate da alcuni angeli perché nel 1232 il re musulmano che controllava la zona e che aveva recluso alcuni cristiani chiese loro qual era il lavoro che svolgevano. E si fece avanti un sacerdote che parlò appunto della celebrazione della messa il momento in cui il vino e il pane si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo. Ovviamente il re musulmano rimase molto colpito da questa storia e volle vedere la celebrazione. mentre il sacerdote stava celebrando la messa si rese conto che mancava la croce e questa cosa lo sconvolse e fermò tutto. Il re musulmano si arrabbiò molto e ovviamente si sentì preso in giro e improvvisamente dalla finestra entrarono due angeli con il crocifisso. Così il sacerdote poté concludere la celebrazione e il re musulmano si convertì così come tutta la corte. Questa croce è una croce molto particolare è una croce a due braccia ed è il simbolo di Caravaca della Cruz. Infatti tutti i pellegrini, tutti i turisti ogni volta che vengono qui e visitano Caravaca riportano a casa questo simbolo importante con la croce appunto a due braccia. Sara, tu dai tante informazioni utili anche grazie ai social grazie alle informazioni che dai a tante persone ci puoi dire qualcosa in più sul pellegrinaggio? Che stai per fare? Sì, allora venerdì mattina percorreremo l'ultima tappa del pellegrinaggio il cammino del Levante verso Caravaca della Cruz è composto da 5 tappe sono 120 km noi percorreremo gli ultimi 8 km partendo da Sikhin e arriveremo appunto alla Basilica di Caravaca sarà un cammino non molto impegnativo quindi un po' tutti possono raggiungere facilmente Caravaca soprattutto nel periodo di maggio perché dal 1 al 5 maggio ci saranno delle celebrazioni particolari che avranno il culmine il giorno del 5 maggio dove ci sarà appunto la venerazione di questa reliquia nella Basilica una reliquia di cui ci ha raccontato la storia ma che tra l'altro ha anche subito un furto esattamente sì diciamo durante la guerra civile questa reliquia è stata trafugata purtroppo non è mai stata più ritrovata ma il Papa, Papa Pio XII appunto dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma come prima sentivo che ricordava anche Don Pietro ha dato alcune reliquie a Caravaca e sono poi successivamente nel 2003 arrivate altre reliquie anche dalla custodia di Terra Santa Sara, lo abbiamo detto questo a Caravaca è l'anno del giubileo qual è l'atmosfera che si respira? Un'atmosfera bellissima devo dire che in questi giorni che sto appunto visitando la regione di Murcia sto scoprendo tantissime cose visitando dei luoghi molto belli soprattutto qui c'è, come sapete perché voi ne parlate spesso anche molto il culto della Settimana Santa quindi ci sono queste bellissime statue molto suggestive che rappresentano tutta la storia della Passione di Cristo e che sicuramente colpiscono tantissimo Ed è tutto allora pronto per una versione spagnola degli itinerari religiosi che sottoponi sempre a tutti quanti grazie allora per esserti collegata con noi Sara, ciao e buon lavoro e buon cammino è bello riscoprire Monsignor Pietro come anche a distanza nelle distanze di luoghi ci si riesce a ritrovare tutti quanti all'interno di una stessa devozione e di uno stesso spirito abbiamo visto inquadrato proprio poco fa il guanto di Padre Pio che ci hai portato ecco questo, vedi? il senso delle reliquie chi vede una reliquia di questo genere non può che pensare a colui che l'ha portata ecco e Padre Pio dove ci porta poi alla fine del discorso ci porta l'essenziale che è il Signore Gesù ora vedi la gente cerca questi segni perché in fondo noi abbiamo bisogno di toccare con mano la realtà e questi segni diventano allora un ponte tra la sensibilità e il bisogno umano e il trascendente che poi in ultima analisi è Gesù Cristo questo ponte è la vita, la testimonianza e la presenza dei Santi o dei segni della passione o qualsiasi elemento che lega la terra con il cielo ecco perché poi si sviluppano intorno a questi elementi come ci ha fatto vedere Alessandra ecco tu il pellegrinaggio come si sviluppano vedi l'accorrere della gente che deve trovare però poi no? oltre al segno anche un'accoglienza una proposta che non si ferma al semplice segno ma che va oltre ora lì c'è la grande responsabilità direi così della Chiesa in quanto tale che deve sempre custodire offrire ma anche formare le coscienze affinché sai non si scelga sempre la strada in discesa ma a volte si faccia anche qualche tratto di salita cioè si vada a cercare il senso profondo che dà valore vero, autentico a questi segni altrimenti si perde, si smarrisce un po' il senso spirituale di questi oggetti rimangono tali Monsignor Bongiovanni sono tante le reliquie lo dicevamo che custodite lunedì sono in arrivo delle reliquie di Sant'Antonio esatto allora noi viviamo come lì ci hanno fatto vedere in Spagna il nostro giubileo perché viviamo i 200 anni della fondazione della parrocchia chiesa già preesistente da secoli prima ecco, ora quest'anno l'abbiamo voluto agganciare profondamente all'anno della preghiera che la chiesa sta vivendo in preparazione all'anno santo allora il nostro piccolo giubileo viene condotto attraverso la testimonianza dei santi abbiamo fatto venire prima Santa Lucia poi San Francesco adesso arriverà Sant'Antonio di Padova santi poderosi ecco, la grande martire poi San Francesco non c'è bisogno di dire altro e Sant'Antonio è il santo del popolo con padre Pio penso se la giochino perché sono santi a cui la gente è molto legata e come dice l'antico detto mi sono fatto anche due risate domenica con la gente perché dico c'è un antico inno si queris miracula che si recitava abitualmente un tempo e dice così tradotto in italiano se cerchi miracoli da Sant'Antonio devi accorrere ora ho detto alla gente guardate l'invito è solo per chi cerca il miracolo se qualcuno se ne può esimere perché sa qua stiamo tutti talmente inguaiati e so a parte gli scherzi ecco diventerà ecco lì sono riprodotte e le reliquie che verranno da noi quindi venire da Sant'Antonio non è solo chiedere una grazia ma è veramente entrare nella grande testimonianza della sua vita è stato un uomo che per Gesù Cristo ha dato tutto quello che poteva no? e ancora oggi l'eco della sua vita santa e anche del potere che ha presso il Signore di ottenerci i favori ecco continua ad attrarre verso Padova e laddove c'è un culto a questo santo veramente la devozione di tanta gente e allora ricordiamo che le reliquie le accoglierete al santuario insomma la chiesa di San Salvatore in Lauro dal 22 al 28 di aprile quindi per tutta la prossima settimana ne parleremo anche noi in studio tra l'altro la settimana prossima quindi non avete scuse e anche se non cercate miracoli comunque come ha detto Monsignor Pietro venite qua e raggiungete Monsignor Pietro Bon Giovanni a San Salvatore in Lauro grazie per essere stato con noi grazie a voi e buona giornata noi andiamo in pubblicità ci interrompiamo per qualche istante ma poi ritorniamo per portarvi a bordo di quelle navi umanitarie dove ci sono andati anche scrittori e soprattutto una scrittrice che verrà a raccontarci la sua ma anche le storie di una famiglia fra poco grazie a tutti